Oggi siamo qui perché è una delle tappe del progetto Esperienze Rurali portato avanti appunto dalla omonima rete creata nell'ambito del piano di sviluppo rurale della regione Puglia che ha offerto l'opportunità delle micro aziende agricole di aggregarsi per rendere più forte l'esperienza turistica finalizzata alla conoscenza del patrimonio enogastronomico regionale. Oggi siamo qui presso la Mabalice è una masseria collocata all'interno di una lama il cui prodotto di punta se vogliamo è quello dell'olio extravergine di oliva della DOP Terra di Bari ma le altre aziende aderenti alla rete per esempio promuovono altri prodotti che rientrano nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali del Mipaf quali per esempio il pallone di gravina, la mandorla di toritto o la cipolla rossia di acqua viva. Attraverso questo progetto di rete noi oggi presentiamo la masseria ma presentiamo anche altri progetti che la masseria ospita, il progetto Sport e Salute e il progetto Sioux Architettura per i bambini. Quindi la masseria come luogo di accoglienza a 360 gradi. Dalle ricette culinarie che Alessandro Saracino produce realizza soprattutto grazie alla sua esperienza internazionale all'organizzazione di eventi sotto l'aspetto sia culturale che enogastronomico. Si posiziona in un mercato ampio quindi di qui il nostro impegno affinché i luoghi siano ben qualificati e ben organizzati. Alessandro Saracino Alessandro Saracino Alessandro Saracino Alessandro Saracino